YOKAY WATCH Per portare i più forti che avevo, o meglio quelli che erano vicino al livello 90, ho cercato di portarli al 90 e ce l'ho fatta bene o male anche se Lucenio è ancora l'88. Maestro mio stava molto indietro, non ce l'ho potuto proprio, non potevo perderci troppo tempo perché comunque sia avevo voglia di registrare questa lotta. Ho fatto un po' di rifornimento, di cibari e cose varie per far recuperare le energie, ma andiamo a vedere cosa ci dice Whisper. Questa è l'industria tramontina, il logo dello scontro con Dekadama. E c'è Bruno Yoke identico a Dekadama? Già, sembra proprio lo scontro finale. Fa detto meglio Andrea, Whisper mi vuole proprio far allenare. Dekadama, o meglio Terror Dama, è la stessa identica persona, solo che è più forte. Ha un altro nome e gli attacchi sono gli stessi. Quindi praticamente cosa fa? Ti ruba un livello per creare uno dei suoi sottoposti. Allora, già mi tocca far recuperare le energie a Darknian, ma Darknian è una delle mie punte di diamante del team, non posso farlo andare KO. Beh, insomma, i danni li stiamo facendo, ma non come mi aspettavo. Finché rendo inizio a evocare i sottoposti, stiamo a posto. Tanto, ecco, a posto, ha fatto, va. Meglio, meglio, così colpisco tutte e due. Mi dispiace che l'attacco di Lucienio forse verrà sprecato sul suo Yoke Spettrale, ma... Non posso fare altrimenti. Sì, infatti va sullo Yoke Spettrale. Non ho mai ben capito come funzioni sta cosa. Ah, faccio recuperare un po' di energia a Malonyan. Non preferisco usare il cibo per far recuperare la salute piuttosto che l'Energy Max. Ecco, va. Ruba un livello e crea un suo amichetto. Grande! Ecco, ora posso usare un altro lattissimo. Lattissimo, 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 frutto. Ecco, faccio attaccare... Almeno attaccano in due. Maestro Mew e Darknian. No. No, ragazzi, attaccate qualcosa lì perché non può essere. Cioè, distruggetelo proprio. Guarda Lucienio! Dai, tesoro, su! Ma com'è mancato! E poi questa terrore d'arma fa pam pam pam. Non fa dan dan dan. Accidenti. Cioè, già mi sto sprecando tutta quanta roba per curarli. Aspetta. Eh, sì. Eh, sì, caro mio. Eh, sì. Quando ci vuole, ci vuole. Ecco qua, curiamo Malonian. Vailo forte. Perfetto. Così attacco tutti e tre. Perfetto. Vai, linguermiera. Perfetto, perfetto. Molto buono, linguermiera. Molto buono. E pensa ad attaccare. Su. Non ti preoccupare, lo forte. Vai. Potere del tubo. Attivati. Quanto è brutto questo serpentone. O meglio, non so se è brutto o figo. Perché in parte è figo. Perfetto. Ah, mica ci ho pensato per niente. Dico, tanto che ho preso, no, l'energy max della sfera. Faccio attaccare Malonian e... E la forte. Invece no. Stavo già caricato con Lucenio. Ho detto, vabbè, continuiamo con Lucenio. Mi ha fatto uno sbaglio enorme. Vabbè, meno modo. Dovrei sconfiggere anche i sottoposti ora. Il fatto è che non posso pungerli. Ho provato una volta con gli spettrali e non me li fa pungere. E infatti, vedete, non mi non mi da... Non mi da possibilità di pungerli. Kling, Kling, ok, 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 ok. Eh, no, loro tre no. Così almeno faccio male solo a due perché... Dark Nyan ha vigilante sui, quindi schiva il colpo. E mi sto rendendo conto di... Non potercela fare. Se con Lethal Dama ha questi... Se con Terror Dama ha questi problemi. Ok, 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 ho fatto bene, ho fatto bene, ho fatto bene. Dai, dai, linguermiera. O me lo curi. Linguermiera, o me lo curi. Perfetto, brava. Ok, 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 eccolo qua. 13 medicina potente, vai. Perfetto, linguermiera, mi fa recuperare maestro mio anche. Così va carico e se riesco a farlo... No, carico no, però vabbè. Ci ha provato. Ah, si è autopurificata linguermiera. Perfetto, allora. Do l'Energy Max. No, no, perché l'Energy Max. Fermati, sushii, alleo forte. No, ci lascia le penne. Ma non è carico, andiamo con lui intanto. Non me la sto giocando male. Devo ammetterlo, me la sto giocando piuttosto bene. È malo, Gnan, però. Cerca di non creparmi. Vabbè che basta che vado da Lethal Dama e mi dà medicina potente. La Lethal Dama devo ammetterlo a sconfiggerla, non ci vuole niente. 5 minuti massimo ed è fatta. Proprio a dirla grossa. E su, perché non riesco a tracciare bene le linee. Dai, ci siamo quasi ragazzi, su. Manca poco davvero. Se tutti attaccano, ci manca davvero poco. Per sicurezza. Ok. Ok, dai, dai, dai. De Maronian, dai. Siamo quello forte, però dovrei farcela. Non dico a sconfiggerla, ma almeno a liberarmi dei suoi amichetti. No. Ok, dai, mo' sì però. Mo' sì però. Dai. Eh. Senti il tubo. Eh, no. Dai ragazzi. Uno. Manca un attacco. Anche una leccata dell'ingormiera va bene. Eh, su. Oh, no, no, incanto. Oh, grande. Woo. È andata molto bene. Ah. Presso la tosta. È andata molto tosta. Ah, non sono neanche saliti di livello alcuni. Dannazione, eh. Non posso, non posso andare avanti allora. Ah, però sono troppo curioso di vedere se... Penso ci sia... Allora, sono curioso di vedere chi c'è, ma sono altrettanto curioso di vedere se c'è, appunto, la strada, ok? Questa è la strada che mi riporta giù c'è. Però, penso ci sia il poliministro. O la forma finale del poliministro. Cosa c***o è? Oh, mio Dio! No. No, 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 no. Come si scende? No, Whisper, non posso proprio provarci. Cioè, è impossibile farla. Allora, ragazzi, prima di affrontare questo yokai finale, che probabilmente è il vero yokai finale del gioco, c'è un'altra cosa da fare. La mystery way, la strada misteriosa, non so come si chiama in italiano, perché io sono il tipo, io che legge nomi in inglese e poi ricerca in italiano, ma siccome in italiano non li trovo, li lascio in inglese. Quindi, per questo video è tutto. La lotta contro il boss finale probabilmente neanche la faccio vedere nel video, la taglio, perché non ce l'ho neanche provato. L'ho fatto andare KO gli yokai, con due attacchi andavano KO anche a vita piena, quindi è impossibile proprio per il momento. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo che in descrizione ci sono i link per Facebook e Twitter, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Bye bye!